Signorina Olmwood, abbiamo trovato un morto, è morto, è morto, è morto, sì, pensiamo sia il Maggiordomo della casa. E come si chiama quest'uomo? Il Maggiordomo di Mr. Olmwood, si chiama il suo nome. E guardi a vedere il clave. Sì, è proprio stecchito, è mortissimo. Oddio, come mai si trova in questa posizione così? Io credo che l'assassino gli abbia dato un gollettone. Un gollettone? Vedi, qui c'è un buco. È stato colpito proprio qui con un coltello, c'è un buco. Che morte atroce. Vedete, vedete povero signore, è questa la ferita. Mamma. Venite, venite, venite. Filippo, è morto. No, Filippo. Ancora mi sente, è morto. Deve essere proprio stecchito. Bisogna capire chi è stato. Bisogna capire chi è stato. Per me è il Maggiordomo. Dai zitto. Bisogna capire chi è stato a ucciderti. Sentite qualcosa. Gemme come un cagnolino. Secondo me è morto. Anche secondo me è morto da poco. Secondo me è ancora in circolazione. Vedete il colore cadaverico? Forse se li si chiude la bocca. Inizia a respirare di nuovo. Inizia a respirare di nuovo. Vai, vai. C'è un indizio. È questo. C'è un capello sopra. Riso, cosa potrà voler dire? Eh, riso vuol dire. Il sushi. Il riso nel sushi. Andiamo a vedere se c'è altro sushi. Forse è benenato. E' avvelenato. Sì, è avvelenato. È avvelenato. Oh no. È stato questo a ucciderti. È avvelenato. Come no? È avvelenato. Aspetta. Cosa provi adesso? Avvelenamento. A che sensazione hai? È avvelenato. E che colore è? Bianco. Oh no. Oh no. Oh. Mister Black. No. È morto Mister Black. Mister Black. Era davvero avvelenato. Non mi guarda. Ho avuto un'illuminazione. La vittima era il carnefice stesso. E Mister Black. È morto per una colica renale. Dimmi chi è che ha ucciso il signor White. Aspetta. Aspetta, me lo sintonizzai. Ma chi è morto? Eh? Chi è morto? È morto qualcuno. Sangue. Tento dolore di sangue. È stato il signore. Tento dolore di sangue. Sangue. Il signor Black è morto. È stato il signor French fries. È stato il signore Lolfres. È stato Harry Potter. È stato il signore. È stato il signore. Oddio. Adho. Oi. E' morto! Abbiamo fatto la club? Sono morta! Sono morta! Sono morta! Azione! 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 Un, due, tre! Azione! Non è morto! Era davvero morto! Morto! Si fa? Un, due, tre! Sta per un schimmi! L'intestino! Va bene! Ok! Sono miei sön! Sono miei sön! Ho, ho, ho!